vediamo in questo video come realizzare il color tortora partiamo da una base bianca i colori che andremo ad aggiungere sono terra ombra naturale nero ed infine ocra rossa soprattutto se siamo alle prime esperienze iniziamo a miscelare i colori uno alla volta cioè inglobiamo alla base bianca una tinta alla volta e comunque procedendo per gradi sto facendo una piccola quantità di colore su un piattino in modo da capire meglio da permettere di vedere meglio come evolve la gradazione di colore man mano che aggiungiamo le varie tinte tenete comunque conto che ciò che vedete nel piatto o nel contenitore che state utilizzando per la preparazione del colore non è proprio attendibile per capire esattamente il colore che abbiamo raggiunto dobbiamo eseguire un test utilizzando un pennello piccolo con il quale preleviamo una quantità una minima quantità di colore che andremo a stendere su carta e ad asciugare solo una volta ben asciutto potremo capire esattamente la tonalità di colore che abbiamo raggiunto continuiamo ad aggiungere colori alla miscela poco alla volta fino al raggiungimento della tonalità di color tortora desiderata il color tortora si caratterizza per essere un grigio caldo rosato se vogliamo accentuare quest'ultima caratteristica aggiungo più ocra rossa come vedete dai test di colore realizzati durante la preparazione di questa tinta si possono ottenere diverse tonalità di colore semplicemente cambiando le proporzioni fra i vari colori utilizzati ed ecco il nostro color tortora pronto per essere utilizzato volendo possiamo anche diluirlo a seconda delle necessità quindi procedere alla sua applicazione